Il mondo dell'imprenditoria, sostegno dei beni culturali per dare nuova luce all'Obelisco Egizio di Benevento. Si tinta di blu la piazza di Benevento che ospita l'Obelisco Egizio, sistema di illuminazione realizzato con finanziamenti privati. Carlo De Cesare. Continua il percorso di collaborazione tra il comune di Benevento e la soprintendenza all'archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Caserta e Benevento per la valorizzazione dei principali monumenti della città sannita. Una sorta di strategia promozionale, iniziata con l'illuminazione artistica dell'Arco di Traiano, del complesso monumentale di Santa Sofia e della fontana di Papa Orsini e che ora, grazie all'intervento dell'imprenditore Diego della Valle, prosegue con l'Obelisco Egizio di Piazza Papiniano, curata dal lighting designer Filippo Cannata. Un evento finalizzato ad attirare l'attenzione dei visitatori, così come l'esposizione al Get Museum di Los Angeles dell'altro bellisco egizio, normalmente custodito al Museo del Sannio. L'utilizzo in California di prodotti multimediali alimenterà senza dubbio la curiosità dei fruitori della mostra nei confronti di questi favolosi reperti archeologici del nostro territorio. Saltare la presenza storicamente rilevante dal punto di vista, diciamo, monumentale, dal punto di vista del patrimonio che c'è di Benevento anche all'insegna della vicenda egizia è un fatto molto importante. Grazie. Grazie. Grazie.